buongiorno a tutti sono qui per un video velocissimo a nome di tutta l'art universe per spiegarvi il post che abbiamo appena pubblicato con l'elenco delle sale allora questo elenco che vedete è un elenco provvisorio e non perché quelle sale non siano definitive perché lo sono ma molto probabilmente nelle prossime ore si aggiungeranno altre sale questo è assolutamente normale per tutti i film che non fanno parte dei grandi circuiti dei major internazionali quindi che non sono dei film della world disney o della marvel o cose del genere questo perché le grandi major hanno comunque degli accordi con i circuiti di cinema italiani e anche stranieri preesistenti perché forniscono tantissimi film che sono già comunque dei successi quasi garantiti quindi si permettono di dettare delle condizioni molto favorevoli per loro noi invece che siamo nuovi e che stiamo cercando di fare breccia nel mercato in questo momento abbiamo qualche difficoltà in più e quindi come ho detto già in un altro video in passato per noi è molto difficile sapere fino all'ultimo quanti cinema riusciremo ad avere in italia molto dipenderà da voi quindi io faccio un appello a tutti quelli che sono interessati a vedere creators di richiedere il cinema nella propria città se già non è presente nell'elenco nella lista perché gli esercenti hanno la possibilità di inserire qualsiasi film e il nostro è assolutamente già pronto sia sulle piattaforme che lo scaricano come telespazio sia nei magazzini dove vanno fisicamente a prendere i dcp e quindi ci sono tutte le opzioni possibili è tutto molto semplice se vogliono proiettarlo devo dire che molti di voi magari non sanno cos'è il circuito UCI in italiano viene spesso chiamato UCI è un circuito internazionale di multisala che per quanto riguarda l'italia probabilmente è il più importante che c'è hanno tantissime multisala disperse dislocate per tutta l'italia e noi siamo riusciti ad averlo in maniera praticamente integrale salvo giusto qualche UCI che era chiuso perché sapete bene che il problema covid ha creato delle difficoltà un po' a tutti ecco questo circuito e c'è stato dato interamente e questo di solito avviene solo per le grandi major con i grandi film quelli che spendono in pubblicità milioni e milioni e milioni di dollari nell'ottica delle centinaia di milioni di dollari ovviamente questo non è stato il nostro caso però il film piace c'è interesse e il circuito UCI per esempio lo ha riconosciuto vi dico questo giusto per farvi capire che magari molti di voi non lo sanno ma abbiamo raggiunto delle sale veramente importanti come l'arcadia di melso la sala energia è considerata la sala più bella d'europa per schermo per atmos per qualità eccetera la sala odds di brescia che è per il nord italia veramente molto prestigiosa molto bella e così molte altre sale grandi e importanti per chi invece mi chiede la sala più piccola del proprio paese ripeto se andate in due o tre a chiedere all'esercente è possibile che lui decida di prendere anche creators o solo creators non lo so comunque ragazzi abbiamo già raggiunto un bellissimo risultato abbiamo molto più che 100 sale il che è decisamente un traguardo è un successo per noi se voi riuscite a darci una mano potrebbero essere ancora di più ultima nota a piedi pagina il circuito UCI normalmente mette dei banner di pubblicità dei film che usciranno e in questo momento hanno avuto dei problemi si sono anche scusati con noi per questo ma non sono riusciti a star dietro ai cambiamenti repentini dei film e anche per il discorso smart working covid che comunque ha complicato un po le cose per altre problematiche loro di conseguenza i banner non sono ancora i banner di creators online spero lo siano veramente prestissimo ci hanno garantito che sarà così mi hanno garantito che giovedì ci sarà una pubblicità impattante su tutto il web e quindi potremo verificare speriamo di riuscire ad inserire un prossimamente in sala in queste ore e comunque questi banner a piedi pagina del film creators che comunque è previsto in tutti gli UCI però se voi andate a cercare nei film che usciranno adesso questo giovedì venerdì sabato e domenica troverete che non potete proprio entrare quindi non è un problema di creators ma c'è un altro film greenland che sta uscendo la stessa settimana succede un po per tutti nei circuiti UCI che non si riesca a vedere i film in programmazione da giovedì è normale è un problema che hanno avuto non dipende da noi stiamo lottando con le unghie con i denti per far sì che più gente possibile sappia che saremo in sala perché ci saremo se guardate per esempio su my movie e siti di questo genere di cinema trovate il nostro pop up e la nostra pubblicità che spunta da tutte le parti per cui state pure tranquilli troverete il film creators nell'elenco che vi abbiamo mostrato e probabilmente pubblicheremo anche altri aggiornamenti vi aspettiamo al cinema io e tutti gli attori di creators il regista ci sono una serie di appuntamenti anche con degli attori che saranno presenti in varie sale in liguria e a roma e insomma seguiteci sui social e saprete tutto quanto vi aspettiamo